Il rettore dell'Umsa, il professor Francesco Bonini, nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015, ha illustrato il programma di investimento e di sviluppo che l'università sta perseguendo. Tuttavia ha definito oramai insostenibile la penalizzazione degli Atenei non statali in un sistema universitario, cheppure è in modo esemplare articolato in senso pluralista. Alla presenza dei rettori di altri Atenei di Roma e del Lazio, Bonini ha sintetizzato così le forme di questa penalizzazione. Non solo un annunciato taglio di circa la metà del sempre più modesto fondo di finanziamento, ma in modo meno immediatamente visibile, ma non meno significativo, con i ritardi e le incertezze sui trasferimenti dei fondi per il diritto allo studio e con la moltiplicazione dei vincoli, veri e propri lacci e lacciuoli 2.0, da parte di apparati che affermano di muoversi in una logica non burocratica, quella cioè ispirata agli ingegneria gestionale, che tuttavia rischia di risultare non meno mortificante dell'antico accentramento, del valore costituzionalmente affermato dell'autonomia universitaria. Il professor Bonini ha reso omaggio al rettore merito, il professor Giuseppe Dallatorre, che ha guidato, accompagnato e sostenuto la trasformazione e lo sviluppo dell'università nell'arco di ben 23 anni. All'inaugurazione sono intervenuti anche il professor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, e il cardinale Attilio Nicora, presidente del CDA della Lumsah. Creatività, innovazione e imprenditorialità al servizio del benessere collettivo è stato il tema della prolusione del professor Iasevoli, ordinario di economia e gestione delle imprese, e direttore del Dipartimento di Scienze Umane della Lumsah, che ha indicato alcune priorità. Favorire nelle future generazioni di studenti, manager e imprenditori, la diffusione di un pensiero creativo, indirizzato allo sviluppo e all'applicazione di innovazioni sociali. Ripensare i modelli imprenditoriali e i saperi manageriali, a battere le barriere che limitano la volontà imprenditoriale dei giovani, considerare la dimensione sociale dell'impresa come un elemento distintivo della catena del valore. Però tutti questi elementi sarebbero assolutamente inutili se non riusciremo, ha detto Iasevoli, a trasferire alle future generazioni la gioia della creatività e della possibilità di poter realizzare le proprie idee. Il potenziale espresso dalla vivacità e dalla creatività dei nostri giovani studenti è infinito, ha detto, ma dobbiamo allontanare il pessimismo e valorizzare al massimo le persone e i loro talenti.